musica 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 li faccio cable sta per venire la no senti li facciamo isolati solo una volta o isolati doppio i gold cable isolati solo una volta 8 dovrebbero andare però mi servono le rubber bar per fare questi affari cazzo ce n'avevo un po' mi pare perfetto e mu serve un redstone engine alberto mi crafti un redstone engine e si si è una cazzata fallo dai si lo crafto ma engine si chiama engine engine redstone engine abbiamo finito energia e allora fa bruciare perchè non è che abbiamo finito energia ho staccati cavi vale eh no e non si fa eh due vuoi qua del legno va bene va bene allora come si fa il pistone legno legno sopra iron e cobblestone non è che c'è un pezzo di iron benissimo si ti ha grazie ok allora facciamo il pistone eh vabbè intanto che lui fa il pistone non possiamo aspettare quindi eh ci facciamo un adesso dobbiamo fare direttamente il motore ma mi servono le gude in gear per fare le gude in gear mi serve il legno cazzo ora quanto di poco ok allora raga questo non lo possiamo fare eeeh che che altro c'era da fare dentro lo storage storage mi servono due pezzi di legno sono qua col cazzo che riesca a fare la roba che vuoi sto a fare due wooden gear eccole qua io faccio una torcia di redstone a questo punto eeeh spero non mi fa spara per aria tu stai eccole fatto c'era dietro il culo tanto per dire eh ah li prendo ok eeeh metti il redstone engine oppure dammelo non lo so l'hai fatto no? si ma l'ho fatto solo se lo chiami engine 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 perchè non posso di engine? non mi fa parlare engine 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 mi dai il engine si mi serve un pezzo di vetro però prima se no non riesco a portare eeeh la sabbia dove l'hai messa? beh qua ce n'è un pochino uso questo e la sabbia sta qua sta qua dove? non ce ne sa manco poco oh bene l'hai craftata cosa? il redstone sto craftà un attimo e non ti serve mica il vetro? se no ma si è sempre il vetro vabbè ma che cazzo sei di il vetro vabbè vabbè non ci crede cercalo se vuoi guarda lo sto guarda in questo momento sai che ti dico r serve il vetro? ah uno al centro eh uno al centro lo serve io boh infatti ho detto non serve uno allora c'è tutto sta roba vabbè che bello questo si che è bello sto cuocendo il vetro con le scale dai su dai madonna madonna oh no c'ho tutta roba da fare non esplodere dai 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 un blocco maluquo un buon lungo il video danni astuce c'è una stunga stupi a stupido il culo mi dosi questo è questo cos'è questo redstone engine ma che cazzo ci devo fare con questo affare che ci si fa lo butto lo vado a buttare lo vado a dare ai socobo no dai dai perdiamo altro tempo a pop e ti è un bildo elettrico esatto un motore per il suo pisano di gomma momenti cavi lo sai che non funzionano i pipes sulla buildcraft? si che funzionano si lo spero proprio allora io intanto devo andare qua giù a collegare un paio di cose questo te collego te collego oh aspetta non ho spiegato qui ho fatto semplicemente una cosa il legno fa uscire la roba questi qua la trasportano e me la portano direttamente dentro l'electric furnace così se voglio medicinare un'ora faccio direttamente e arriva oh finalmente santo dio ce l'ha fatta oh ok ora craftiamoci il coso questo questo ta ta eccolo qua andiamolo a qua 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 qui qua 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 qui qua 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 eccolo qua poi che altro ci manca quindi questo qua ce l'abbiamo Quarzo, quarzo, quarzo Ok, questo è una cazzata Posto E' facile Ok, allora Quarzo, quarzo, quarzo No Questo E Sto usando il generatore perchè è notte, lo sai, si È notte che mi usa il generatore per portare l'eletticità Sto per collegarti tutto con i cavi di cose d'oro Ne sono arrivate un paio di rubber bar E dai, sì Allora, ho fatto pure questo Minchia, ce n'è voluto Olè Tac Oddio, che brutto Vabbè, fai niente E un M3 invece l'abbiamo Ok, ora in teoria ci servirebbe anche l'access terminal Sai che faccio? Io solo due volte il copper cable Io mi sparo Il cavo di gold Eh, non ce l'ho niente No, non È solo che così non ti parte l'eletticità C'è la La porta meglio Alba, ce l'abbiamo altro ferro? Eh, ce l'abbè L'hai cotto tutto prima? Sì Non ce l'abbiamo No, no, no Non si può Non si può Ma se io macerò l'armatura Succede qualcosa? Non so che cazzo succede se macerei l'armatura Penso che neanche che cazzo ha creato le mod Se si è mai posto il problema Che succede se macerei l'armatura? Che succede se finisco il ferro? Ok, raga, ho preso l'indispensabile 27 Vabbè Andiamo subito a macerare sta roba No, io non ne posso più, eh Non si può così però Che cazzo Sì, è una palla andamminina dopo un po' Eh, mettiamo sto cazzo di guerri Oddio, quanto cazzo è lento Oh, grande Mi ha dato energia Scusa Niente La di omosessuali Parte 2 Non mi chiamano omosessuali Sai che succede? L'hai visto a rugby Che cazzo succede quando mi chiamano omosessuali? Che diventa ancora più omosessuale Sì, è vero, però Raga, non glielo dire Brandissima merda Sto scherzando Guarda oggi è allenamento Tecchiappo ti faccio un ribaltino Ti rompo la schiena Oggi c'è allenamento Oddio, che bello Eh, se ti può Eh, guarda come funziona bene Vai a vedere la tua IC2 Oh, che bello che è Oh, ma io non ho dato l'attività a quest'altro Com'è che funziona? Eh, funziona perché Per il semplice motivo Che questo qua d'energia a tutti Ah, bene, meno male perché Eh, è troppo poca l'energia Ecco, è già finita Eh, ce credo Ha succhiato pure quella dell'altra Non te crede Quanto succhia sta a fare? Eh, che ci fa? È il nostro Giusto un attimo È il nostro coso Il nostro Il magazzino Eh sì, il magazzino virtuale Porca vacca Allora devo avere un po' più di energia Eh, allora Craft con un po' di solar panel Cerca Cerca di fare qualche Un po' di solar panel Le moto faccio arrivare un sacco di energia Eh, mettili sopra il tetto E se non vedo stacco Gli solar panel E non sta proprio sul tetto Però non li mette Diciamo un po' sti brutti Che poi diventano schifo Sto posto Già fa schifo, no? Allora, a me serve Ok, io direi di scollegarlo Sennò Non c'ho Nell'energia neanche per cuocere Ecco, ti comunico Che adesso io Va di minera A prendere il carbone Altrimenti ci fai te Perché se no Non posso farli Sti a fare Ma ce l'abbiamo il carbone? Ce l'abbiamo il coal cook? No, me serve il carbone Carbone E lo devo macerare Mi serve per fare i pannelli Vabbè, vai A posto, regà Alberto è andato a piegare la cosa Io non ho fatto un cazzo Sono rimasto tipo così A girare intorno Senti, ma sto aeronore qua Io metto un po' di roba Così ti darò un po' di energia Però io vorrei macerare la mia roba Però ci metti del tuo cazzo di ferro Oh Non mi insulta il ferro Macera, oh mio maceratore Però non lo coce Il generatore secondo me Potrebbe spingere di più Se faccio così Valerio Ammazza se spingere di più Guarda che roba Così che va Ok Quindi Ferro Lo sto prendendo tutto io E altanto non fa Perché mi stai a macerare il coal? Secondo te come si fanno i pannelli solari? Serve sta roba Ok Allora Makeable Fluix Dust Si può fare anche in altri modi Sta merda, vero? Di cosa? Per forza così Non ci posso credere Se vedi che se macero un cristallo Dai, siamo pieni Allora, mi serve un attimo il maceratore Eh, mi serve un attimo a me Ne favo un altro? Sì, sto cazzo Non ci posso Va bene, faccio solo uno per rubare il pannello solare Intanto fai quello che devi No, 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 no Non mi serve più Non mi serve più Oh, qui c'è un po' di coal Ecco, bravo Ma secondo te finisce direttamente qua? Perché se finisce dentro il fornese Non so che cazzo fa In quel modo Io non ci posso credere Che sto cosa fa così Cioè, ok, quindi Vale, vale, vale Così Sono le sei e mezza Lo sai, sì Eh Sì Eh, lo so Regà, per questa puntata Penso che sia tutto Perché il tempo a nostra disposizione È appunto Troppo finito Ragazzi, ci vediamo Alla prossima volta E Sono le sei e venticinque Quindi fammi un attimo craftazzo La cazzo di cosa Eh, va beh Fa cinque minuti Poi ce ne andiamo Dove sta il certo squarzo? Cazzo, ne so Io dove l'hai messo Oddio, no Finito qua dentro Ah, li sputa fuori Meno male Beh, infatti Allora Eh Questo 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 No Dio, paolo Albedo, ma ce l'ha Dai, ti ho lasciato al libro Dai, dai, dai Dai Allora Intanto Intanto che lui macera Intanto che lui macera Dobbiamo fare tantissime di queste E ne posso fare solo sette Porca trogno Quindi Questo qua ce l'abbiamo? No Albedo, c'ho un Cold Dust Te lo lancio Ah, buono Tutti Dici Oders Likes Ok Diciannove Stanno andassi Perfetto Eh, la prossima puntata Mentre tu fai un upgrade Che serve? Ok Ok, Alberto Credo che gli stai togliendo No, non mi stai togliendo niente Solo che Giustamente Devo andare qui Vietto Ok 10k Water capsule Ok Non possiamo farlo Quindi ragazzi Per questa puntata È tutto Altrimenti Alberto Mi squaglia Vivo No, forse è morto E faccio il silicone Mortide Che cazzo ho detto? Mortide Mortide Ho detto 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 mortide Mortide Quindi faccio così Perfetto Come la devi sparare così Fai E albè Poi mi devi fare Quella di gold pipe Puoi fare un attimo adesso Ce ne ho due Te bastano? E la devi mettere Sopra la torcia di redstone Sopra la torcia di redstone? Sì Che cazzo Dove è andato Sopra la torcia di redstone? Scusa Lo faccio vedere io Ok Ci servirà anche Ok Per la prossima puntata Andiamo a scavare in miniera Così non vi sorbite tutto lo schifo E E vi facciamo trovare tanta roba E ridammi tutta la polvere di quarzo Che mi hai inculato Lo devi mettere qua Dove la metto? Qui Qui albè Ops Sì lì Oddio Verete tutto il quarzo? Eccolo un altro Che cazzo? Perché ho dovuto mettere l'affare là? Albè cazzo! T'ho detto il golden pipe Tu metti il copper case Sì l'ho detto il gold pipe Non hai detto pipe No ho detto pipe Piscio Poi sentiamo le registrazioni che sicuramente c'erano Ecco Ti mi chiedevo che cazzo Vabbè prossima puntata Non si posano Non si può proprio Un, due, tre Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Oh ma ne danno sei Novi te porca vacca Cazzo ne danno sei Se c'hai un certo squarzo abbiamo fatto Se ce l'avessi tre? Sì l'ho montata Ce l'hai tre No non questi Questi cosa è nether squarzo Ah non ce l'ho tre Eh affanculo non ce l'ho Va bene La prossima puntata andiamo a scavare prima Sì 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 Ciao a tutti ragazzi Siamo qua Ricordate di iscrivervi Lasciare un mi piace Commentare Per rimanere aggiornati E coalizzarvi sul nostro canale Che bella Ciao a tutti Ciao Che è il nostro slogan Ficcio Il slogan è tuo Non mio No è pure tuo No Non aiuto Non ho cibo Ehi Ehi Va bene Via Cioca a bo Dove sei Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti 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 Ciao a tutti